A fianco della Valkyrie AMR, sul palcoscenico del Salone dell'Automobile Ginevra 2018, Aston Martin porta al debutto la Vantage AMR e la nuova Aston Martin Vantage. Due vetture incredibilmente belle, incredibilmente curate, una vocata all'uso stradale, l'altra pensata per il solo impiego tra i cordoni e che portano di fatto la casa di Gaydon insieme alla DB11 verso uno step successivo della propria filosofia, della propria linea di pensiero, ovvero non rispondere solo ai gusti classici di una clientela molto affezionata alla tradizione, ma esplorare anche nuove frontiere in termini di sportività portando contenuti tecnologici e dettagli stilistici completamente inediti nel mondo Aston Martin. Grazie. 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 Grazie.